Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto desktop Anchorman PC SuperClock ed Intel Core i74770K. Construiamo gli aggiornamenti hardware upgrade per il vostro PC senza costi aggiuntivi se si ordina questo Anchorman PC con noi fornito completo installato pronto pronto a partire e inserire il numero di ASIN nella casella di ricerca e Amazon messo questo prodotto nel carrello degli acquisti all'interno. Non ci sono costi aggiuntivi calcolati Amazon Prime Ordini Aggiornamenti Hardware Grade non è possibile. EURB-0G0I Lunga TBNM Windows 8.1 UP grade dal PC con Windows 7 59, EURB-0G0I WAF allargatura di 4 GB RAM altri, uguale costruzione 39, EURB-0G0I Lunga V4Z8 Windows 8.1 installato con licenza 89. EURB-86CZT14 Prolungamento della garanzia per i PC Anchorman di 4 anni 85, EURB-86G0BD e modificazione per un PC SuperSilenzio per i PC Anchorman 39, EURB-86G0SMS Premium SuperSilenzio per i PC Anchorman. Alimentatore di 700 Watt, EURB-86G, EURB-86G1336 Adattatore WLEN 300 MBT di MaxEO 7612 PIN 25, EURB-86G1 LGA. Lettore di schede molteplice UCR75 in 1 USB 8, EURB-0G0I O4 Panel Multifunzione a Casa Interconnect Pro, HHC5BK USB 2.0 e SATA Front USB 3.0. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.